In questa puntata di Tiki Taka B2B parliamo del ciclo di vita di un'impresa. Intanto lo andremo a definire, pur molto velocemente, beh lo facciamo già, è molto semplice. Ciclo di vita di un'impresa lo dice la parola quanti anni vive un'impresa? Adesso capiremo quanti sono. Ciclo di vita di un'impresa è diverso dal ciclo di vita di un prodotto. Oggi in questa puntata ci concentriamo sul ciclo di vita di un'impresa e cercheremo di capire che cosa deve fare un'impresa per vivere il più a lungo possibile, perché come una persona fisica anche un'impresa nasce, matura e muore. Però tutti in linea di principio hanno l'ambizione di far durare la vita della propria impresa o quella in cui si lavora il più a lungo possibile. Nevio, diamo qualche inizio di spunto. Intanto un dato interessante, ti anticipo la fonte, è una recente ricerca di Union Camera. Quanto dura in Italia mediamente un'impresa? 12 anni, è il dato che io ho scoperto perché non lo sapevo, mediamente un'impresa vive 12 anni. Anche io quando l'ho visto sono rimasto leggermente, pensavo fosse di più. In realtà una ricerca molto recente ha dato questo dato. Io conoscevo qualche anno in più, parlavo spesso di 15 anni. Non certamente un'impresa non campa 25 anni nella media. Basta fare questo ragionamento e ti ripasso palla. Una start up che nasce oggi nell'80% dei casi muore dopo 5 anni. Quindi un'azienda nuova muore nell'80% nei primi 5 anni. Della rimanente 20% l'80% muore nei secondi 5. Tradotto 4 su 100 superano i 10 anni. Ecco quindi che i conti tornano. Se oggi attiviamo un'azienda questi sono i numeri. Quindi intanto noi abbiamo ben superato il traguardo perché siamo quasi 25 e quindi insomma da questo punto di vista alziamo la meta. Siamo vecchi, abbiamo la barba lunga. Detto questo è chiaro insomma, le aziende nascono e poi muoiono come le persone, hai detto tu. Altra cosa che Jeff Bezos di Amazon lui stesso aveva detto che prima un po' anche Amazon finirà. Quindi è normale. È chiaro che l'obiettivo di un imprenditore è quello di far durare la sua azienda il più lungo possibile. Aspetto importante secondo me da considerare è il tema tra la vita di un'azienda e la vita di un prodotto. Perché come noi spesso diciamo l'obiettivo che bisognerebbe perseguire è l'azienda deve durare all'infinito, nel senso il più a lungo possibile. Poi ci sono scelte imprenditoriali però di base l'azienda deve durare il più a lungo possibile. I prodotti possono invece anche nascere e morire in tempi anche più brevi rispetto all'azienda. Esatto. Infatti diciamo così, il segreto se così lo vogliamo chiamare è quello di creare un posizionamento chiaro dell'impresa. E il posizionamento è una scelta strategica fondamentale. Cioè dove mi colloco nel mercato e come voglio che mi vedano i miei clienti. Cioè che impatto nella loro mente deve avere il mio brand. Questo vuol dire che devono associare al nome del brand, al nome dell'azienda, un qualche tipo di categoria dove l'impresa si colloca. Però un tema è il brand aziendale e un tema è i prodotti. Quando parlo prodotti intendo anche servizi. Prodotti e servizi in questo caso sono dei sinonimi. Che vanno trattati come delle tappe che ti fanno allungare il ciclo di vita dell'impresa. Tradotto. Non si deve commettere l'errore frequentissimo oggi di avere un'azienda monoprodotto e di avere un'azienda che vende qualche cosa che non ha un nome, un cognome. L'impresa deve vendere dei prodotti. I prodotti deve... e ripeto prodotto intendo anche un servizio. Quindi l'impresa vende prodotti o servizi, deve dargli un nome e deve ragionare che quel prodotto o servizio che ha un nome ha un suo ciclo di vita. Il prodotto può morire, ne metterò dentro un altro. L'impresa va avanti. Questo è il concetto che tendenzialmente deve entrarci bene nella mente e oggi viene poco utilizzato nel mondo di piccole e medie imprese. Assolutamente Andrea. Quello che secondo me vorrei sottolineare perché è un aspetto fondamentale che hai citato più volte e che spesso diciamo ma non è assolutamente entrato nel quotidiano diciamo degli imprenditori è il fatto di dare dei nomi, brandizzare tutto quanto, dare dei nomi e dei prodotti vuol dire se tu o servizi per semplificare diciamo prodotti, tu vendi qualsiasi tipo di prodotto non devi venderlo con il nome generico, che ne so, sedia, tav, cioè ok il nome generico, devi brandizzarlo, devi farci del marketing sopra, devi creare un brand, lanciare quel brand nel mercato e poi quel brand potrà anche morire perché le cose cambiano, ok? Le dinamiche del mercato cambiano, ci sta che un prodotto tu nasca, che sei un'azienda che vende un determinato prodotto e dopo qualche anno quel prodotto brandizzato non esista più. Non è quello il problema. Problematico sarebbe se la tua azienda, come hai detto tu, è monoprodotto, è focalizzata solo su quella cosa lì e poi lì si creano i problemi. Hai fatto l'esempio dei mobili, prova a pensare a un'impresa che produce dei mobili, ci sono delle collezioni, ci sono delle linee, ci sono dei prodotti, gli devi dare un nome, quella linea può avere un grande successo ed è e sta nel pezzo cinque anni, sta nel mercato sul pezzo per cinque anni, ma la verità è che se tu sei un produttore di mobili e punti magari ad oggetti di design e non ad un evergreen sempre proposto al mercato, tu farai una collezione all'anno, creerai sempre qualche cosa di nuovo. Sarà la collezione che come un'onda dopo un'altra ti farà andare avanti, muore una collezione, non la produce più, ricerca, sviluppo, innovazione, nuovo prodotto, nuovo studio e il brand aziendale va avanti grazie ai prodotti, loro si susseguono con maggiore frequenza, ma ognuno di loro ha l'obiettivo di allungare la vita media dell'impresa. Quindi questo è il concetto e lo riscontri in un sacco di business, prova a pensare anche al fashion, alla moda, c'è un brand aziendale e ci sono delle collezioni di prodotti, alcuni di questi hanno un nome, altri meno, senza andare troppo in profondità. In questo caso usiamo esempi magari di business dove gravitano molte grandi imprese, molti grandi brand che ci tornano utili per far capire la logica del prodotto come volano per l'aumento della vita media dell'impresa. Se ci intercaliamo però nel mondo della PMI vediamo che non ci sono delle collezioni, non c'è l'abitudine, e parlo anche di servizi, non c'è l'abitudine di creare prodotti nuovi, non c'è l'abitudine di lanciare ogni anno qualche cosa di nuovo. Assolutamente. E questo ti fa allungare la vita media dell'azienda perché l'elemento novità, il prodotto nuovo per lo stesso mercato ti fa aggiungere vita media. Tu dovresti, ogni azienda dovrebbe, anche perché viviamo in un mercato dove purtroppo per fortuna, qui dipende dai punti di vista, devi fare molta attenzione alle dinamiche che sono molto più veloci di una volta. Quindi ogni azienda dovrebbe costantemente, come hai detto tu, ogni anno ragionare e pensare che cosa può lanciare di nuovo nel mercato. Anche perché oggi viviamo in un contesto dove c'è una concorrenza allucinante e quindi devi fare anche molta attenzione a come si muovono gli altri. Se tu sei fermo, se tu sei statico, se tu vendi sempre lo stesso prodotto, non lo brandizzi e pensi di campare così a lungo, rischi soprattutto oggi molto di più rispetto ad una volta. Quindi oggi secondo me la parola chiave è quello che hai detto tu, l'azienda deve ricerca, sviluppo costante, lanciare fuori nuovi prodotti e questo aspetto è un aspetto che riguarda, se vogliamo, molto di più le piccole e medie imprese. Perché come sempre hai citato l'esempio di magari qualche brand grande che può permettersi anche degli errori. La piccola e media impresa no. Quindi questi sono aspetti che riguardano moltissimo le nostre aziende e sono ancora molto ma molto distanti. Sì, ecco, secondo me il focus del ragionamento sta proprio in quello che hai citato tu prima. Cioè l'imprenditore deve cercare di dire, ok, intanto punto numero uno, posso dare un naming, un nome a questo prodotto, a questo servizio? Perché intanto l'effetto che ottieni è quello di valorizzarlo di più. Se tu vendi un qualche cosa che ha un nome, il percepito è maggiore. Piccola regola che quindi questa chicca vale dieci puntate di Tiki Taka B2B. Dai un nome ai tuoi prodotti perché il percepito sarà più alto. Se tu vendi qualcosa che nemmeno non ha un nome, non serve essere guru del marketing per capire che non la stai valorizzando. Faresti un non nome a tuo figlio? Cioè vuol dire, gli dai un nome? Sì, quando nasce fai così uguale col prodotto, identico. Quindi il prodotto deve avere un nome, lo valorizzi e ragiona nell'ottica di dire, ok, oggi ho questo tipo di offering, quindi posso creare 4-5 nomi di prodotto principali, linee, collezioni. E quindi ci è più facile pensare alla durata di quel prodotto, all'inserimento di un nuovo prodotto, eccetera, eccetera. E tutto ciò è slegato dal brand aziendale. Tema finale sui nomi, attenzione perché a volte anche sui nomi c'è un grande capitolo. Faremo una puntata sui naming. Mi sembra che ne abbiamo già parlato in una vecchia puntata, abbiamo affrontato il tema dei nomi perché, ecco, dare un nome a un figlio può essere più facile rispetto a dare il nome a un brand di prodotto. Attenzione con un aspetto delicato. Ci sono delle regole da seguire, ma insomma si può fare e l'importante è capire che va fatto. Assolutamente. Qualche spunto anche per questa puntata penso ci sia stato. Seguici, commenta, scrivi, condividi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao e buon marketing. Ciao.